Insomma, quindi l'esigenza era riuscire a raccontare tutto questo in poco tempo, immagino. In poco tempo, esatto, è stato difficile individuare il modo e voi ci siete riusciti benissimo perché il video racconta proprio l'iter di processo di vendita che a volte è un po', come dire, lento e lo racconta benissimo, il senso è perfetto perché ci aiuta proprio a districare quelli che sono i nostri 5 punti dall'acquisizione, diciamo, legata all'analisi, quindi alla valutazione, fino ad arrivare alla proposta e alla vendita. È stato carino vederlo appunto con questo video che scorreva a raccontarlo, l'avete raccontato bene, ci è piaciuto molto. Wow, quindi com'è stato il rapporto con Daniele che è qua con noi oggi? Ci siamo trovati bene, molto bene, perché già dalla prima bozza ci è piaciuto molto il video che ci avete fatto. Veramente le modifiche e le annotazioni sono state pochissime. Veramente le modifiche e le annotazioni sono state pochissime. Veramente le modifiche e le annotazioni sono state pochissime.